Ciao, come è stato il vostro viaggio nell'Omb Italia? Non era troppo uncioso? C'era una cosa e la favore. Ma che cosa dici? È stato un viaggio fantastico, è una regione molto dinamica. Eravamo stanchi prima di partire e quindi abbiamo detto con calma, ci fermiamo anche alle terme. Ma ci sono terme anche in Francia? Sì, ma in Valdellina sono speciali, offrono tante possibilità per chiamare acqua. C'erano piscine natatorie, piscinerie rai, acquafan per divertirsi, un barco con masche e ferme e la possibilità di cure mediche convenzionali. Per ogni problema trovi una cura. Oh, ma che fortuna, neve ne proprio bisogno. Oh, ma che fortuna, neve ne proprio bisogno. Oh, ma che fortuna, neve ne proprio bisogno.